Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di comportamenti e managerialità. Questa sera ci occuperemo di decision making. In studio con noi la dottoressa Serena Work, che ci fornirà alcuni suggerimenti su come raccogliere informazioni mediante l'ascolto attivo. Dottoressa Work, a tutti capita di trovarsi nella posizione di scegliere e non riuscire a farlo in modo automatico, perché presi dall'incertezza di non avere abbastanza elementi a disposizione. Perché scegliere può risultare così difficile? Il decision making è un processo molto complesso, che richiede abilità cognitive molto elevate e che non sempre si posseggono. Si possono però potenziare in modo da imparare a prendere decisioni con più facilità. E in che modo? Il processo decisionale è sempre influenzato dai giudizi, dalla percezione del rischio, dall'emozione e dalle esperienze passate. Un metodo efficace per imparare a decidere consiste nell'allenare la mente a scegliere, a formulare giudizi che non siano influenzati da situazioni analoghe già esistenti, cercando di lasciarsi guidare dalle emozioni senza però esserne sopraffatti. In parole semplici, è fondamentale imparare a pensare in maniera critica, analizzando e valutando le informazioni ottenute mediante l'esperienza, l'osservazione, l'ascolto e altro. Mi sembra di capire che l'ascolto è molto importante ai fini del processo decisionale. Essere pronti all'ascolto significa essere aperti a ricevere feedback ed essere predisposti a capire. L'ostacolo maggiore del buon ascoltatore, infatti, è la convinzione di sapere già tutto e di non poter trarre beneficio da quanto ascoltato. Non bisogna dimenticare poi che solo ascoltando con attenzione si può imparare a porre le domande giuste e a capire se si possiedono già le informazioni necessarie per prendere decisioni. Alcune volte, infatti, ascoltando un punto di vista esterno al proprio, ci si può rendere conto di avere già a disposizione le informazioni che si stavano cercando e di non averle collegate per risolvere il problema. Cosa bisogna tenere in considerazione quando si pongono domande per raccogliere le informazioni? Prima di iniziare a fare domande, è necessario avere ben chiaro lo scopo della decisione da prendere in modo da non allontanarsi mai dall'obiettivo. Nella maggior parte dei casi, se si stanno ponendo delle domande, si presuppone che si ha già a disposizione del materiale da cui partire. Perciò è importante cercare di capire quali sono le informazioni mancanti e formulare quesiti mirati. Per eliminare eventuali dubbi e il rischio di risposte vaghe, si consiglia di evitare di formulare domande a risposta aperta e di individuare con cura le persone giuste a cui chiedere le informazioni. Come bisogna comportarsi quando le risposte alle domande sono vaghe? Si possono chiarire contenuti e gli eventuali dubbi attraverso ulteriori domande. Se la risposta fornita consiste in un'asserzione, poiché le informazioni date non sono sostenute da alcuna prova, l'ulteriore domanda da fare dovrà consentire di raccogliere gli eventuali dati a sostegno di quanto asserito. Quando invece la risposta fornita consiste in un'affermazione sorretta da prove, le domande aggiuntive possono servire per verificarne la fonte o per capire se tali fonti tengano presenti punti a favore e quelli contrari all'informazione. Quando infine ci si trova di fronte a un'argomentazione, cioè ad affermazioni messe insieme a sostegno di una tesi, porre delle domande è utile a verificare se le deduzioni sono logiche o arbitrarie. Come si fa invece a verificare di aver ottenuto l'informazione desiderata o di aver compreso le risposte? Esistono alcuni spedienti. Si può proporre a chi parla di considerare altre alternative per essere sicuri che l'interlocutore non stia proponendo soltanto informazioni che interessano a lui, oppure chiedere chiarimenti se quanto espresso risulta troppo difficile o troppo banale. Allo stesso modo si possono fare delle puntualizzazioni quando il discorso è troppo generico o astratto. Anche sottolineare il proprio punto di vista può essere utile se l'interlocutore tende a prendere in considerazione principalmente la sua opinione. Infine si può cercare di ritornare al discorso iniziale quando l'interlocutore tende a divagare. Esistono delle regole per poter imparare ad ascoltare in modo attivo? Migliorare le proprie doti di ascoltatore è possibile tenendo presente alcune semplici regole. Non avere fretta di trarre conclusioni. Guardare le cose da un nuovo punto di vista. Cercare di accettare il punto di vista altrui chiedendo all'interlocutore un aiuto per guardare le cose dalla sua prospettiva. Usare il linguaggio delle emozioni come strumento conoscitivo. Prendere in considerazione anche i segnali trascurabili, fastidiosi, irritanti, perché contrastanti con le proprie certezze. Non escludere i paradossi. E saper utilizzare una metodologia umoristica. Ringraziamo la dottoressa Serena Work per i consigli forniti. Grazie a voi per averci seguito. La vostra Tina Parlan vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Comportamenti e managerialità. Buonasera.